Ciao a tutti, oggi prepareremo le lasagne, zucche e salsiccia. Il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa. Gli ingredienti sono per la besciamella, latte, farina, burro, noce moscata e sale. Per le lasagne, lasagne fresche, zucca tagliata a pezzetti, salsiccia senza budello, vino bianco, aglio, rosmarino, acqua, sale, pepe, olio, provola affumicata tagliata a fette e parmigiano grattugiato. Andiamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la besciamella. Mettere nel boccale il burro ed azionare il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il latte, la farina, la noce moscata e il sale. Azionare il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, velocità 4. La besciamella è pronta, mettere da parte. Abbiamo lavato e asciugato il boccale, adesso mettere l'olio e l'aglio. E' da azionare il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale, mettere la zucca, ed azionare il bimbi per 4 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungere il vino, ed azionare il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1, senza misurino. Aggiungere il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1, senza misurino. Aggiungere l'acqua, il sale e il pepe. Aggiungere la salsiccia, il rosmarino, mescolare con la spatola, e cuocere per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1, senza misurino. Aggiungere il fondo, un po' di besciamella, e lasagne, la besciamella, la zucca con la salsiccia, il parmigiano grattugiato, e la provola. Mettere la lasagna, e proseguire con gli stati fino alla fine degli ingredienti. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi, per 30 minuti circa. La lasagna è cotta, lasciare intiepidire prima di servire. Lasagna, zucca e salsiccia. Grazie, e alla prossima ricetta. , la spettacaca. Allora, a far off. Vi sfoglio. Vi sfoglio приготовito. Vi sfoglio, vena la prima cosa. Grazie a tutti.